I numeri parlano sempre più di Fratelli d'Italia come primo partito in Italia e anche e soprattutto in Abruzzo. Guardi, sull'Italia vedremo nel senso che io, come ho già detto, sono abituato a combattere le battaglie prima di dichiararle vinte e a raccogliere il consenso dei cittadini prima di commentarlo. Sull'Abruzzo invece c'è da fare un altro ragionamento, perché qui il consenso di Fratelli d'Italia sale grazie alla dimostrazione di una classe dirigente che tanto nelle amministrazioni quanto alla guida della regione sta dando dei risultati importanti che non sono risultati, come posso dire, di piccola strategia, sono risultati di visione. Noi ci siamo presi degli impegni quando abbiamo scelto di indicare come Fratelli d'Italia, come nostro primo potenziale presidente di regione in una regione d'Abruzzo, ci siamo presi degli impegni che riguardavano temi annosi e molto complessi da risolvere. Prima fra tutte la vicenda infrastrutturale, oggi i risultati della regione, sia per quello che riguarda il potenziamento della Roma Pescara, sia per quello che riguarda l'aeroporto, sia per quello che riguarda tutte le battaglie che abbiamo fatto su A24 e A25, dimostra questa attenzione, così come la macroregione, cioè la capacità di lavorare, e noi l'abbiamo pensato perché in Italia c'è un problema di divario nord-sud e c'è un problema di divario est-ovest, come sappiamo, per cui ovviamente quando abbiamo anche candidato Francesco Acquaroli alla guida delle Marche e quando abbiamo tentato con la Puglia, ragionavamo proprio della necessità di queste regioni di lavorare insieme per potersi rafforzare l'un l'altra e superare una minore attenzione che c'era stata da parte del Governo nazionale. Quindi penso che proprio questa regione sia un simbolo e sia la migliore risposta che si può dare a chi oggi dice ma Fratelli d'Italia sarà in grado di governare questa nazione. Fratelli d'Italia è stata in grado di governare l'Aquila con Pierluigi Biondi, molto meglio dei sindaci che c'erano stati prima, e la regione Abruzzo con Marco Marsiglio meglio dei governatori che c'erano stati prima. E quindi questo per noi è un luogo simbolo nel quale non dobbiamo venire a raccontare che cosa faremo, possiamo raccontare che cosa abbiamo fatto.